Gentili colleghi e colleghe buongiorno, rieccoci per una pillola di tutela del consumatore, in particolare vi intratterrò per una quarta d'ora circa su una norma abbastanza recente, la legge 206 del 2023, entrata in vigore l'11 gennaio 2024 a seguito di pubblicazione sulla gazzetta ufficiale numero 300 del 27 dicembre 2023. Una norma che va a modificare un decreto legge del 2005, in particolare il decreto legge 35 del 2005, modificato dalla legge 80 del 2005, che aveva introdotto una serie di sanzioni all'articolo 1,7. Quindi facciamo un passo indietro e chiunque si occupi o si sia occupato di lotta alla contraffazione ha idea di cosa parlo, per chi è beato lui giovane faccio un minimo di escursus. Allora nel 2005 è stato introdotto questa nuova normativa che prevedeva una sorta di depenalizzazione, seppure con la solita riserva che conosciamo bene perché la troviamo presente in tantissimi articoli, quella che dice salvo che il fatto non costituisca reato. Bene, questa norma diceva salvo che il fatto non costituisca reato, sono puniti con sanzione amministrativa pecuniaria l'acquisto o l'accettazione senza averne prima accertata la legittima provenienza a qualsiasi titolo di cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducono a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti e in materia di proprietà intellettuale. Quindi chi acquistava prodotti contraffatti non commetteva più il reato di ricettazione ma veniva punito con una sanzione che all'epoca era fino a 10.000 euro, il che significava che il pagamento in misura ridotta era un terzo del massimo ovvero 3.333,33 euro. Gli introiti andavano in favore dell'erario e a ricorso era da presentare al prefetto. Quella norma introduceva anche una sanzione a carico di coloro che si adoperavano per far acquistare o ricevere a qualsiasi titolo qualcuna delle cose che abbiamo appena descritto senza averne prima accertata la legittima provenienza. Diciamo che puniva anche gli intromettitori o gli agevolatori. Questa norma ha scatenato sin dal momento in cui è entrata in vigore una serie di polemiche non indifferenti per cui ci sono state introdotte varie modifiche, in particolare relativamente ai limiti elettuali. Venne introdotto il minimo, 500 euro, quindi la nuova sanzione era da 500 a 10.000 euro, per cui il pagamento in misura ridotta diventava 1.000 euro anziché i 3.333,33. Dopodiché ulteriore modifica nel 2009 si è passati a nuovi limiti elettuali da 100 a 7.000 euro, quindi il pagamento in misura ridotta ha ridotto ulteriormente a 200 euro. Nel 2009 viene introdotto e esplicitato quello che era comunque contenuto, secondo me, previsto già in linea generale dalla legge 689 dell'81, ovvero l'obbligo di confisca delle merci oggetto della violazione amministrativa, mentre scompariva, quindi abrogata, la sanzione a carico degli intromettitori, di chi si adoperava per. È stata introdotta anche nel 2009 una sanzione, sempre con l'inciso salvo che il fatto costituisca reato, ma una sanzione a carico dell'operatore commerciale o dell'importatore o comunque a carico di qualunque soggetto che fosse diverso dall'acquirente finale, ebbene l'acquisto di prodotti contraffatti da parte di queste figure comportava una sanzione amministrativa da un minimo di 20.000 euro ad un milione di euro come massimo, quindi il pagamento in misura ridotta 40.000 euro. Sin da subito la dottrina ha però escluso o comunque ritenuto molto difficile l'applicazione di questa norma perché in buona parte coincidente con quanto prescritto dall'articolo 712 del codice penale, ovvero l'incauto acquisto. Bene, fatta questa premessa veniamo alla legge 206.023. L'ho già detto, è entrata in vigore l'11 di gennaio. Ha modificato ancora una volta il minimo edittale e lo ha passato da 100 a 300 euro. In questo caso c'è stato un aumento. Quindi il pagamento in misura ridotta oggi diventa da 200 a 600 euro. Un'altra innovazione secondo me significativa, che le dice anche lunga, su come gli organi centrali la pensano in merito agli enti locali, permettetemi di dirla così, la novità nasce dal fatto che lo scopo di questa norma, viene detto esplicitamente, è rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie e su questo va bene. Ovviamente a carico degli acquirenti, di merci contraffatte, e su questo appunto non ci sono margini di dubbio. Ma aggiunge è di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione. Quindi l'idea come al solito è quella. Metto a tuo favore gli introiti nel momento in cui sono le tue forze, quindi la polizia locale, ad accertare le violazioni. Per cui dall'11 gennaio 2024, qualora la polizia locale accerti la violazione dell'articolo 1,7 del decreto legge 35 2005 e successive modifiche e integrazioni, qualora ribattiscono sia stata la polizia locale, sia la polizia locale ad accertarlo, gli introiti adesso andranno alle casse comunali. Resta immutata invece la competenza per quanto riguarda gli iscritti difensivi che saranno ancora da indirizzare al prefetto, come resta immutato il fatto che sarà il prefetto anche a dover emettere l'ordinanza di confisca dei prodotti che siano stati sequestrati. Ulteriori novità introdotte dalla legge 206 è la modifica dell'articolo 517 del codice penale, all'interno del quale è stato introdotto un inciso che è questo, detiene per la vendita. Quindi la nuova formulazione dell'articolo 517, che è comunque norma residuale rispetto ai 473 e 474 del codice penale, oggi il 517 dice testualmente chiunque detiene per la vendita pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali esteri atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza, qualità dell'opera e del prodotto è punito se il fatto non è preveduto come reato ad alta disposizione di legge con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro. Ulteriore modifica nell'ambito della procedura penale è stato modificato l'articolo 260 codice di procedura penale di cui è stato riscritto il comma 3 bis e integrato il comma 3 ter. Il comma 3 bis adesso prevede, e ve lo leggo testualmente, che l'autorità giudiziaria anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, quindi diciamo diventato definitivo, dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui l'articolo 364 e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute e l'igiene pubblica, ovvero quando risulta evidente la violazione dei predetti di vieti anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Questo è il nuovo comma 3 bis. Poi c'è il comma 3 ter, in cui si dice che nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, quindi sequestro di merce contraffatte a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso al termine di tre mesi dalla data di effettuazione del sequestro, procede alla distruzione delle merci contraffatte o usurpative sequestrate previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salvo diversa disposizione dell'autorità giudiziaria ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui è l'articolo 364. Bene, quali le novità significative? Beh, la distruzione può essere richiesta all'autorità giudiziaria sia dall'organo certatore sia dalla persona offesa. Si può disporre ove il decreto di sequestro di convalida non sia più impugnabile. Viene disposto nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando sono di difficile custodia o quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica, quando risulti evidente la violazione dei prediti di vieti anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Il comma treter poi rende automatica la distruzione delle merci contraffatte o usurpative nel procedimento a carico di ignoti, decorsi tre mesi dalla data del sequestro. ovviamente prescrive che la distruzione possa avvenire salvo diverse decisioni dell'autorità giudiziaria ovviamente fatta salva la responsabilità della magistratura, ove venga comunque preceduta dal prelievo di uno o più campioni, ok. Mi permetto di sottolineare che ho utilizzato merci contraffatte o usurpative. Che cosa sono le merci contraffatte più o meno direi che lo sappiamo tutti, il problema è invece quello delle merci usurpative. Le merci usurpative sono le merci oggetto di un'azione che viola un diritto di autore o un diritto connesso o un disegno o un modello dello Stato membro in cui le merci sono state trovate e costituiscono o contengono copie fabbricate senza il consenso del titolare del diritto d'autore o del diritto connesso o del disegno o modello o di una persona da questa autorizzata nel paese di produzione. Che cosa vuol dire? Fondamentalmente che una merce è usurpativa quando è stata ottenuta utilizzando componenti, denominazioni ed etichette originali fornite o approvate dal proprietario, ma prodotte e commercializzate senza il permesso dello stesso. Infine la modifica all'articolo 81, primo comma, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorio del codice di procedura penale per cui nel caso di sequestro di beni contraffatti l'elenco dei beni sequestrati può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso, quindi non sarà più necessario dover contare tutti i pezzi sottoposti a sequestro ma potranno essere posizionati in contenitori e sarà sufficiente indicare la massa, il volume o il peso di questi contenitori. Queste le ultime novità sono state introdotte alcune fattispecie anche nuove, ma all'interno delle aree portuali per cui è stata riservata la competenza all'agenzia delle doveri dei monotopoli per cui non sono di nostro interesse e non mi sono dilungato. Io direi che con questo ho concluso, un saluto a tutti, buon lavoro a tutti i colleghi e a risentirci alla prossima occasione.